allora attivazione pota 18 52 non l'ho mai praticato molto il pota non gli ho mai dato il giusto peso è un'alternativa interessante rispetto al sota soprattutto quando si resta a dormire la mattina presto quando si resta a dormire la mattina si fa tardi poi magari c'è la strada gelata che girano un po i capacisi di metterti per strada e così vicino al mio qth ci sono molte zone protette parchi che ti permettono l'attivazione pota qui mi trovo a belforte italia 18 52 e il setup sto continuando a usare lo xiegu il g106 c'è qualcuno che mi chiama lo xiegu il g106 che si comporta bene mi dà l'idea di essere proprio l'apparato ideale per il pot e per il sota certo non ha le funzionalità del 6100 o del ft 8 17 che quello è fantastico però per fare la banda hf da più che bene allora setup di giro setup è la solita antenna di polo di banda 40 20 metri con i suoi interruttori no perché trovarli di quella dimensione lì mi viene un po difficile guarderò meglio amato poi pochi metri di cavo quassiale perché il tubo in vetro resina massima estensione cinque metri o ancora due metri 7 metri di cavo quassiale di ottima qualità ma come dimensione l'equivalente all rg 58 l'antenna l'ho montata proprio sul crinale di spartiacque tra il torrente cogena e praticamente il bacino del taro prima della influenza della confluenza del cogena dentro il taro geologicamente siamo sulle arenarie d'ostia pessime franose solo a guardarle e la giornata è iniziata con una temperatura molto bassa eravamo intorno a meno 6 adesso da quasi fastidio la giacca una panoramica qui c'è il trattore e l'antenna il crinale il bello dell'attivazione porta è che ovviamente ti scegli la posizione più comoda per per fare l'attivazione se hai poco tempo o se non vuoi trivolare con con il posizionamento mentre per il sota sei vincolato ad essere in vetta in vetta alla montagna sono soddisfatto dell'apparecchietto sì molto rimarco che l'unico difetto assolutamente che gli trovo è la mancanza del misuratore del swr sì è vero ho un dipolo è accordato a seconda del terreno in cui lo monti è vero che baria un pochettino la situazione dell'antenna è la frequenza in cui risuona al meglio però è una cosa irrisoria però io c'ho la fissa che le swr deve essere non ci credo quindi mi tocca portarmi a dietro anche il nano vna non è un gran peso ma il fatto è che ti porti a dietro il nano vna ti devi portare a dietro una batteria specifica per il nano vna con un'uscita a 5 volts questo che è quello è il difetto più grosso che che gli trovo oserei dire quasi l'unico il fatto che abbia microfono parla ascolta ribadisco che è una gran cosa quando quando il segnale è debole molto basso e diventa una cuffia pertanto mi piace molto ho rifatto il pacco batteria e lipo e il consumo infatti era quello che nella prima volta in cui l'ho provato ho detto no cristo quanto consuma era quello il problema perché grosso modo è 40 minuti che sto facendo chiamata e la batteria ancora in ottime condizioni manca anche l'indicatore di voltaggio della batteria ma quello non è non è fondamentale te ne accorgi quando quando è giù di batteria che vedi la barra di indicazione della potenza che leggermente resta resta più bassa tutto lì quindi dai tagli azzurro 4 victor quebec sierra vinco quasi sempre e come al solito e il quasi che mi frega 73 e buon fine settimana oggi pomeriggio c'è il contest indonesia io penso che con un tocco di file 5 watt così in portatile al fagi poco 73 niente adesso a seguire ci saranno tutti questi o mi dispiace che avevo la telecamera spenta per questo con un collega francese che mi ha passato ben tre le referenze pota quindi c'è una sovrapposizione di parchi 5 9 più 20 per te grazie e buona giornata adesso cerchiamo una frequenza cq 40 cq 40 cq 40 cq 40 italia zulu 4 victor che vex era attivazione pota cq 40 florida fai victor mike november 5 9 a qsl ciao 73 italia 3 victor alfa delta 5 9 qsl 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 buongiorno ben sentito 59 anche per te a mestre grazie buon divertimento buon fine settimana italia zulu 1 zulu juliet oscar roger italia zulu 1 zulu juliet oscar 59 qsl italia zulu 1 zulu juliet oscar roger italia udine 4 delta foxtrot romeo 59 59 allora italia whisky zero hotel chilo corretto italia xilofono 1 charlie chilo november qsl perfetto perfetto 5 7 5 7 in valle d'aosta il nome è christian roger florida 4 italia lima hotel 5 9 qsl oh col buongiorno a italia zulu 4 november delta romeo contraccambio al buon anno ti passo la referenza fota italia 18 52 e rapporto 5 8 59 qsl ciao 73 sempre un piacere qrp per qrp grazie ciao avanti italia chilo 4 roger italia chilo 4 italia delta foxtrot 5 9 più 10 per te 5 9 più 10 referenza pota 18 52 qsl sono sulla pagina grazie alla pagina grazie alla pagina grazie alessandro buon divertimento per il pomeriggio con corretto ciao 73 italia chilo 1 qrp alfa delta italia chilo 1 qrp alfa delta roger italia chilo 1 qrp alfa delta 5 9 più 10 qsl si grazie mille 5 9 più 10 anche da parte tua qui in loano provincia di savona grazie mille buona continuazione florida 4 florida tango juliette qsl e guarda ripetimi ripetimi il colo italia tango 9 completa grazie roger roger italia tango 9 hotel juliette hotel 5 9 più 10 5 9 più 10 scusami ma c'è un disturbo poi lo vedrai dal video che che mi impediva di comprendere appieno il col la referenza pota te la do subito italia 18 52 qsl roger italia zelanda 2 india zulu eco 5 9 più 10 5 9 più 10 riferenza pota italia 18 52 qsl grazie buon fine settimana o col buongiorno italia zulu 5 juliette lima foxtrot questa volta la telecamera accesa a te il cambio roger claudio roger 59 più 10 anche per te 59 più 10 anche per te attivazioni non ha in orario un po' tardo ma stamattina era impossibile a te il cambio ma guarda ho passato la ventina riesco anche ad andare a mangiare a un'ora decente qsl o roger india quebec 5 mike sierra 59 più 10 buona giornata e mi raccomando mangi poco allora ultime chiamate intanto ringraziamo i partecipanti all'attivazione pota italia 18 ecco già me la sono dimenticata 18 52 intanto ringraziamo i partecipanti e gli eventuali sw l continuo con le chiamate ancora per qualche minuto qui italia zulu 4 victor quebec sierra portatile qrp attivazione pota 18 52 cq pota italia venezia 3 golf chilo yankee 59 qsl si grazie 5 9 più 10 con picco 9 9 9 più 10 per te se adesso è un problema e a nome sovrincio cutiata la chiesa provincia udine grazie buon proseguimento buon fine settimana grazie grazie